Superate le mille firme per la difesa della natura del torrente Arzilla, raccolte dal Comitato Arzilla Resistente con il sostegno delle associazioni Argonauta e Lupus Infabula, del Comitato per la viabilità sostenibile dei cittadini, le sottoscrizioni per la petizione Salviamo la natura del torrente Arzilla, lanciata sulla piattaforma change.org da Claudio Orazzi, sono state consegnate venerdì nel Palazzo Comunale al Sindaco di Fano Massimo Seri, a sostegno della protesta sulla modifica del progetto di ASET voluto dall'amministrazione riguardante il tracciato ciclopedonale sugli argini del torrente Arzilla. Il progetto prevede la trasformazione del sentiero naturalistico dell'Arzilla in una pista ciclabilurbana con un manto ecologico della larghezza di 3,50 metri e la costruzione di un muro di contenimento in pietra alto 4 metri e lungo 70. Numerose sono state le contestazioni da parte di associazioni e cittadini per il grande impatto ambientale del progetto che prevede anche l'abbattimento di 33 alberi per la realizzazione della ciclabile. Colta Firme serve a rafforzare la battaglia che stiamo conducendo ormai da alcuni mesi e direi forse da anni alcuni di noi, che è quella di vedere un percorso ciclopedonale migliorato tecnicamente, reso più sicuro e fruibile, però senza che venisse stravolta nel suo complesso perché deve essere rispettato il contesto ambientale in cui è inserito. Siamo assolutamente favoribili alla manutenzione del percorso che è già utilizzato molto sia dai residenti che da chi vive in altre parti della città. Chiediamo che il percorso resti con le attuali dimensioni di larghezza e di ampiezza, in modo tale da non compromettere la scarpata che c'è in riva a sinistra e in modo da non dover tagliare le alberature presenti. Il fondo dovrebbe essere possibilmente il materiale più ecologico e naturale possibile e poi siamo d'accordo anche sull'illuminazione e su tutto il resto, sistemazione del ponte e così via. Quindi il percorso deve essere fruibile, sicuro, però senza danneggiare la natura. Noi abbiamo fatto di tutto anche attraverso delle lettere, richieste di incontro per vedere il progetto prima che venisse cantierato e per chiedere una modifica. Purtroppo non c'è stato possibile, ancora il sindaco ci deve ricevere dopo aver fatto ben 3-4 lettere di sollecito. Lo vedremo sicuramente, almeno così ci ha dato appuntamento martedì prossimo all'ora 16.30 e diremo a lui quel che abbiamo detto ormai a tutto il mondo. La petizione, ha spiegato Claudio Razzi, rimane aperta per dare un segnale al sindaco e per fargli capire che non siamo in pochi, ma che c'è un sostegno molto ampio che va anche oltre la città di Fano. Noi confidiamo molto sull'incontro che avrà martedì l'assessore Tonelli con l'ex segno civile, quindi con la regione Marche, per ciò che riguarda la questione scarpata e gabbionate. Confidiamo che il sindaco dia la disponibilità a rivedere una parte del progetto, quindi con una modifica in corso d'opera, ma tuttavia non ci fermiamo, abbiamo già dato un incarico a un legale di valutare se l'attuale progetto definitivo è legittimo sotto il profilo legale, perché il progetto definitivo non è conforme a quanto chiesto dal Consiglio Comunale. Grazie a tutti.